ma la banda parto della stazione di ibiza con la stazione di Ibiza con Tony Colombo hai già ricercato, hai già dato ricercato qualcosa ma che stai a fare in fresa? non ho un video di mettere in posto ma guarda la la figura che ti dice guarda, guarda, bravo c'è c'è lo schiaccio guarda, c'è lo schiaccio guarda, Milano come si fa il zoom? non c'è solo zoom no, è Castellanamari immagini e che ne mai saputo di fumare ma si è stato morto io devo aprire è da la felu pazza? è il Shrek in Borghese è da la felu pazza è che cagato pazza, vanno a punto di scuola puoi che stai facendo? mamma mia faccia un minarghistano è di qualcosa oh, che dè? Shrek con pazza e vanno a mettere le fai sempre più la città più una cinema della città le trafine la città ora già morto video video ravi vanno a scusche la città tu non sai cosa c'è vabbè prendete voi vabbè stacca vabbè stacca vabbè stacca vabbè vicino pallo ravi non c'è un fascino di sangue juro la tua video questo ci sta se non stacca non si vede mai il video